ciao a tutti ragazzi eccoci con una novità sul canale allora come avete letto dal titolo vi porterò dei titoli non saranno tutorial vi porterò dei titoli che costano diciamo sotto i 5 euro massimo insomma 6 7 euro cioè sono dei giochi non proprio nuovissimi che però visto il prezzo ridotto vale la pena di comprare ripeto non farò tutorial su questi titoli quindi non chiedetemi tutorial su questi titoli se volete per dire questo titolo qui che è human fall flat costa 3 euro su instant gaming mentre ne costa 15 su steam quindi ovviamente non vi dico di comprarlo su steam ma spendere 3 euro per un titolo del genere penso che ne valga la pena allora non so se conoscete il gioco in pratica impersonerete questo omino che adesso sta accadendo tramite i pulsanti del mouse il sinistro muoverà il braccio e la mano sinistra e il destro il braccio e la mano destra e niente adesso vi farò vedere comunque dovrete risolvere dei rompicapo per arrivare all'uscita del livello il gioco è anche in italiano ovviamente io non è che mi posso mettere a comprare tutti i titoli che vi mostrerò diciamo che c'è la possibilità di crackare come al solito il gioco però ripeto ancora un'ultima volta non vi mostrerò come si fa il gioco appunto eppure in italiano andiamo a vedere subito la partita io l'avevo già iniziata farò un livello che ancora non ho fatto e lo vediamo insieme ovviamente questo sarà il primo di una serie di titoli che vi porterò non vi aspettate titoloni potrebbe anche esserci qualche sorpresa cioè titoli un po vecchi ma che comunque sono scesi talmente di prezzo che allora allora come ho detto adesso questa è la prima volta che faccio questo livello quindi non so che cosa devo fare qui c'è una tavola forse devo usare questa tavola per salire più su perché non vedo appigli da nessuna parte forse un labirinto no non mi sembra allora quando vedete questi cubetti a terra sono degli aiuti ovviamente poi saranno in italiano o almeno i sottotitoli sto guardando anch'io perché per superare il livello probabilmente servirà questa cosa ok va beh l'arrampicarsi l'avevo già fatto anche nei livelli precedenti quindi non capisco perché è pesantuccia non si alza questa tavola allora si ok ma che mi arrampico a fa qua ci deve essere qualche zona in cui arrampicarsi si può trascinare però alla stanza perché prima non l'avevo alzata se devo creare una specie di punto secondo me devo mettere qui su ok questo è il terzo quarto livello dobbiamo saltare ovviamente la difficoltà va increscendo ah ho capito ok alza di tavola alza di ok ok o casco perfetto perfetto uizza inghia come pesa ok 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 non so se ce la faccio a saltare ma meglio non correre i rischi ah no 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 ok alto di maledetta e a cascando e che non ti alzi di più no no prova a saltare uff ok non so se serve più lasciamo lì per il momento c'è un aiuto c'è un aiuto per risparmi si walk forward rilisando le mani pratica la tempo e usare il momento se non rilisare le mani rilisare farsi una folla di te come dire ciao rilisando le mani rilisando le mani e rilisando le mani Ok, bisogna saltare. Vabbè, penso che qui ce la faccio la stessa. Ce la faccio o no? No, allora bisogna saltare. Occhio! Maledetta. Ok. Vediamo un po' di discorsa. Ok. Speriamo di non cadere. No, salta no. No. Non è facilissimo eh. Ecco qua. Ok. Spostiamo sto coso. No. Spostiamolo di là. Sai che è la stessa cosa? Ah no, ecco qua. E adesso? Minchia, sta vacca lì. Ah, bisogna passare di là. Ok. 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 Ce la farò? Ok. Quindi, adesso, per forza di qua. bene. O ormai sono diventata esperta. Ah! Eh, ma qua ce la facciamo. Ce la faremo a saltare lì? ok ok sai che ho sbagliato qualcosa no mi sta sfuggendo qualcosa penso che devo farlo accadere credo credo che senso ha averlo qui proviamo ok 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 e più di cosi non va ok ok non capisco Ah ma è cambiato qui. Ah non ce l'ho fatto caso. Ok. Alla fine non sono complicati i rompi capo però ci vorrei un attimo per capire. È mai umano che andrete avanti sarà sempre più difficile. Oh un bel salottino. Ok. Ecco qua. Il livello è finito. E si precipita verso quello nuovo. Vabbè vi mostro solo questo ragazzi perché non vorrei spoilerarvi tutto il gioco. Ebbè diciamo che non è impossibile arrivarci poi alla fine. Ci sono arrivato io che sono non sono molto portato diciamo con questo tipo di giochi. E non mi ricordo se vi ho detto che ovviamente col gioco originale potrete giocare anche in cooperativa con i vostri amici. Quindi diciamo che il divertimento raddoppia. Vabbè ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di non del gioco anche del gioco però in generale di quello che io vorrei fare. Scrivetemelo nei commenti. Se questa idea vi piace basta anche solo lasciarmi un like per farmelo capire. Però col commento ditemi se è una stronzata. Non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi direi che è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.